ciao a tutti benvenuti e bentornati sul canale dopo due video belli lunghi oggi video breve e unboxing ho trovato queste due blind bag molto molto carine secondo me nella magica bancarella a un euro e li ho presi sono i filli che come sapete sono i cavallini o gli unicorni pony eccetera ma in questo caso sono filli mermaids e infatti c'è scritto nuovi cioè novità e ci sono questi cavallini barra sirene e secondo me sono veramente carine questa è la versione glitter gold edition e poi ho questa che è la versione pearl edition ora guardiamo un attimo la checklist di entrambe allora di queste qui mi piacciono merrow questo qui che ho qua carol carina questa qua nepturn questa qua tide esmeralda ma un po tutte sono carine e vediamo di là invece ah che carine allora di qua abbiamo ocean che mi piace molto così anche lei luca anzi lui luca memory questa qui messa così jenny e direi celsa celsia carine come anno non sono mi sa molto recenti non lo so non c'è scritto strano però no forse non c'è scritto milano anno 7 però non c'è forse 2008 sì 2008 quindi sono un po vecchiotte anche l'altra sì però comunque mi piace guardare queste cosine qua lo sapete e niente sono molto curiosa non so perché queste qua sono davanti e dietro c'è tipo la check checklist completa allora apriamo prima queste qua carino il disegno molto carino allora andiamo aprire di solito c'è l'apertura di queste blind bag ma mi sa che questa volta non c'è ho dovuto prendere la forbice perché a quanto pare non c'è l'apertura vediamo un po chi abbiamo trovato e come a me sono grandine queste sono grandi ma che carine i figli di solito erano più piccolini non so se vi ricordate allora abbiamo trovato martin quindi un maschietto questa è la sua carta ma che bello che è ragazzi è carinissimo in pratica è questo cavallino azzurro con la criniera bianca e rosa e diciamo la coda tutta glitterata rosa dietro anche la stellina ma che carino me lo aspettavo piccolo di solito i figli sono così cioè sono probabilmente cavallini piccolini invece questo è bello grande ed è molto molto carino non so se però sarà su vediamo non lo so eh no mi sa di no vabbè lo appoggerò da qualche parte vediamo bene la checklist che sono curiosa eccola qua qua si vedono bene la checklist è bella grande che bella glitterina quella col narcobaleno fantastica allora noi abbiamo trovato lui martin o martin e queste erano le altre mi piaceva molto memory veramente tanto carina così musica guardate che bella e jenny come ho detto prima chelsea quelle che mi piacciono di più sono queste e ovviamente glitterina bella non le ho più viste nel nel banco altrimenti le prendevo di nuovo perché non mi aspettavo cioè non mi aspettavo fossero così belle carinissimi ora andiamo aprire l'altra ovvero le glitter cioè le per le pearl pearl vediamo un po come sono anche questi sono belli grandi che bella anche lei wow ma sono troppo carine ma vabbè mi piacciono un sacco questa vediamo chi è vediamo che abbiamo trovato o le abbiamo trovato violet o violet ma eh sono carinissimi guardatela allora lei come vedete non ha glitter quindi forse sono più carini glitter però forse di pelosità di vellutino è fatto meglio questo e anche come dettagli tra i due non sono entrambi molto carini sinceramente lei è appunto violet vedete fatta è tutta gialla e arancione con la coda da sirena fucsia perlata quindi vedete come lucida e dietro a due conchiglie nella criniera nei capelli diciamo carinissima anche lei vediamo anche qua la super checklist vediamo come sono ah qua sono un po più piccoline vabbè eccoli qui ah c'ho tanta luce perché sto registrando di sera e allora non c'era luce allora mi piace moltissimo questa nautilius poi mi piace tanto ariella nepturna come avevo detto eeeh tide e anche queste qua le ultime due rita e kai carinissimi carinissimi spero di ritrovarle perché sinceramente mi piacerebbe anche riprenderle non so se sono più belle le glitter o le pearl ma secondo me sono entrambi molto carini fatemi sapere in un commentino quale delle due vi è piaciuto di più io forse sono più boh sono belle entrambi mi piacciono entrambi come figure veramente carinissimi forse mi piace leggermente di più questa ma perché ha la coda glitterata però come ho detto come dettagli è più bella questa quindi sono più o meno lo stesso livello do un bellotto queste blind bag perché secondo me sono veramente molto molto belle fatemi sapere in un commento se vi sono piaciute se le volete rivedere se le ritrovo molto volentieri questa sta anche seduta mannaggia ma lui no stai su no non sta vabbè lei si e nulla noi ci vediamo al prossimo video grazie di essere rimasti con me in questo unboxing come sempre iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e un bel like un commento qua sotto noi ci vediamo alla prossima da me e i cavallini firenetti è tutto ciao